ciao è da parecchio tempo che non ci vediamo come va guarda sempre i soliti problemi i clienti sempre più esigenti pensa che uno stamattina mi chiede se siamo un hotel sostenibile chissà cosa cercava il mio lo è che cosa il mio è un hotel sostenibile in che senso sai che dal 2021 la direttiva europea vieta all'uso di plastiche e di polesterolo espanso noi come hotel abbiamo fatto tante iniziative i clienti apprezzano ma molto interessante ma come posso approfondire l'argomento domenica 21 luglio la federal berghe ha organizzato un seminario informativo perché non partecipi molto volentieri dove ci vediamo che aspetto il 21 luglio a roma al palazzo estensi vieni posso avere un bicchier d'acqua per favore subito mannaggia sta plastica aiuta il futuro non usare la plastica